Mio papà era capo di un gruppo di contadini. Avevo la responsabilità di una trentina di contadini di una grande azienda. Era il capo bifolco mio padre. C'erano allora quattro cascine, una dei buoi guidata da mio padre, l'altra dei cavalli, un'altra di cento mucche e un'altra di altre venti mucche. Era una fattoria di 300 ettari, enorme, immenso. In questa fattoria dove da bambino ho imparato a incantarmi. Ci si arrotolava sui prati, insomma, tanto era l'ambito. Vedere a maggio gli alberi che si è riempiti, l'uovo di foglie. Poi, tra l'altro, c'erano anche i frutti. Ci si divertiva. No, 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 ma era a nostra disposizione, era tutta a nostra disposizione. Mele, pere, era a nostra disposizione in questa vita splendida. Però in questa vita splendida dove la natura ti incantava, però ti accorgevi, però, di una cosa. Ecco, che io, che quella natura era per me e che Dio sparava da me. Torno al discorso ancora. Dopodiché tu ragazzo, capisci, io ho sentito un gran bisogno di prepararmi al futuro. Dico, una gran voglia di studiare, una gran voglia di studiare. E qui, papà, che era contadino, però lui, mio papà, amava molto il leggere, mi disse, proprio quando incominciava ad andare a scuola, mi disse, ricordati, ragazzo, che ho una conoscenza in più, una ricchezza per i poveri. Io mi ha preso questa volontà, questo desiderio di conoscere, di conoscere, di conoscere. Per cui, finita la terza elementare, non essendoci più oltre nessuna scuola al mio paese, mio papà mi ha permesso di fare, di frequentare la quarta, ma facevo sette chilometri a piedi ad andare e sette a tornare, pioggia, vento e neve, per fare la quinta. Dì, papà, ma io voglio fare anche una quinta. Facevo otto chilometri, allora mi preparò una bicicletta da donna, ma era talmente piccola che dovete alzarla a sella e legarla alla canna. Però, andare a scuola per me era, era un evento, un evento conoscere, studiare lì, eccetera. Io ho visto un'infanzia incantevole, insomma. Perché? 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 Perché quando capisci che c'è una speranza, tu sei una speranza. Io ho avuto, mi sono visto, ho capito che non potevo sperare da me, però dovevo stare attento a me. Ecco perché allora, direi, l'invito a custodire continuamente la mia coscienza, no? Il papà a dire, il mio papà disse un giorno, quando mio fratello voleva andare in America a fare soldi, il papà disse, non ho piacere ragazze, che vostro fratello vada. Sentite, stiamo al mondo tre giorni, viviamoli insieme, e mettetevi bene in mente che tre cose importano nella vita, lo dico nel mio dialetto, eh? Un tocco al pan, un pezzo di pan, vuuris bei, vuole essere bene, e la coscienza è nata, e la coscienza è nata.